Ehi, accosso, saluti! Volevo dirti che ho ricevuto, non l'ho ricevuta, l'F24 che riesca nel prossimo mese. E mi chiedevo con la mia signora, vero bravo? E ci chiedevamo come lo paghiamo questo F24 che non l'ho ricevuta, l'ho ricevuta. Io, tieni amore, io accosso non so più com'è dirtelo e mi viene quasi voglia di comunicare. Scusa amore, hai ragione, non voglio togliere le parole di bocca. Saluto accosso, un po' meglio amore. Bravo amore.